pronto pronto Marco Puntovieve sì pronto salve abbiamo ricevuto una chiamata da questo numero ma lei per caso è detentore della maratona più grande del mondo sì, io l'ho detto ah no, siamo conoscenza di lei ma siccome noi la stiamo vedendo, abbiamo visto che lei le è piaciuto lo schizzo di sbova sul mulo, vorrebbe venire nel nostro ristorante a provare ma vaffanculo